ben ritrovati a tutti a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio spiegare come porre rimedio a una situazione che mi è successa che mi è capitata di recente devo dire che questa situazione in più di dieci anni di utilizzo di ubuntu non mi era mai successa pochi giorni fa è capitata anche a me di cosa si tratta si tratta del delle chiavi che certificano i repository di ubuntu sia quelli ufficiali sia quelli ppa quindi aggiuntivi ecco mi è capitato che tutto un tratto queste chiavi non fossero più presenti o non fossero più riconosciute dal mio sistema e quindi nella procedura di aggiornamento software normale di tutti i sistemi linux mi è successo tutto un tratto che mi apparisse un avviso di errore di queste chiavi di certificazione dei repository e quindi adesso vi mostro in questa macchina virtuale vedete qui ho aperto una macchina virtuale vi simulo la situazione perché io l'ho già come dire aggiustata l'ho già risolta sul mio sistema vero sul mio pc effettivo quindi vi mostro quanto vi ho appena spiegato un attimo fa in questa macchina virtuale simulando il problema così come si dice sempre un'immagine vale più di mille parole quindi vi mostro cosa vi ho appena spiegato cosa significa tutto ciò ecco è didatticamente parlando è più pratico che ve lo mostri all'interno del programma synaptic il gestore di pacchetti quindi lo apro chiede ovviamente la password ecco questo questo problema delle chiavi repository naturalmente vi appare anche nel normale ciclo degli aggiornamenti con il programma normale degli aggiornamenti ovvero quello con scusate che almeno vi mostro l'icona così sicuramente chi usa ubuntu la riconoscerà scusate come sempre la macchina virtuale sempre un po un po più lenta del mio pc che già non è un fulmin ecco questo questo è il normale programma che monitora e controlla se ci sono aggiornamenti ve li presenta per farveli applicare sul vostro sistema ecco questo programma si accorge anche lui ovviamente proprio da lì che mi sono accorto che le chiavi dei miei repository non erano più a posto sul mio sistema ma mostrandovelo con quel programma non è così come dire esplicita la cosa molto meglio vederlo qua nel gestore dei pacchetti tra virgolette vecchio classico synaptic gestione di pacchetti tutto qua la sostanza è la medesima stiamo guardando la stessa cosa quindi la gestione dei repository e dei pacchetti del vostro sistema operativo con un'altra interfaccia ma la sostanza è sempre quella quindi ho aperto nel frattempo il gestore di pacchetti e faccio un aggiornamento ovvero chiedo a questo programma di andare nei sui server dove sono depositati tutti i pacchetti e aggiornare le informazioni che si vedono qua in questo momento nel mio sistema queste sono le informazioni locali sul mio pc in questo caso in questa macchina virtuale conosciute in questo momento per tutti questi pacchetti presenti e repository presenti sul mio sistema prelevati ad una determinata data nel passato dai server che ospitano i repository quindi io facendo aggiorna voglio aggiornare ad oggi questa queste informazioni su questi pacchetti quindi premo aggiorna la procedura parte il pc va in rete legge le informazioni dai repository e fra un attimo fra qualche secondo dovrebbe apparire diciamo la situazione anomala che mi sono trovato davanti qualche giorno fa ecco qua ecco qua vedete questo non è la normalità ovviamente ma è un'anomalia cosa è successo si legge qua impossibile eseguire quello che deve eseguire per verificare la firma insomma non erano proprio identici messaggi che ho visto io nel mia situazione effettiva ma qui ho cercato insomma di simulare una situazione quasi simile a quella che mi è capitata insomma vedete che dappertutto ci sono problemi con la firma apro una piccola parentesi per chi non fosse molto addentro in queste cose cos'è la firma? la firma è quel file che certifica che il repository è da una fonte scusate il gioco di parole certificata quindi come dire garantita ecco che i repository ufficiali della vostra distribuzione in questo caso ubuntu tipo questo per esempio archive ubuntu com trusty update quindi repository con gli aggiornamenti di trusty perché questa è la versione 1404 di ubuntu in questa macchina virtuale quindi quella attualmente disponibile come versione di ubuntu a lungo termine di supporto ecco sia i repository ufficiali di ubuntu sia gli archivi ppa quindi quelli aggiuntivi che voi nel tempo potete aggiungere per avere un software nuovo o un software più aggiornato hanno sono accompagnati sempre da una chiave che certifica appunto l'origine tra virgolette garantita di ciascun repository se mancano queste chiavi ecco che ci sono dei problemi quindi impossibile recuperare le informazioni impossibile recuperare la informazione sui pacchetti impossibile verificare la firma e impossibile scaricare alcuni file di indice ovvero non riesce o non vuole per così dire il sistema aggiornare le informazioni presenti sul localmente sul vostro pc perché proprio non gli è stato possibile certificare queste informazioni per mezzo delle firme quindi piuttosto dice guarda io ti lascio le informazioni che hai ma non aggiorno niente finché non posso essere sicuro che sto scaricando informazioni da repository certificati quindi senza firme niente il sistema che gestisce gli aggiornamenti fa la stessa cosa vi avvisa che non gli è possibile verificare delle firme che dovrebbe scaricare e installarvi del software da sorgenti non certificate in realtà poi non lo fa vi avvisa e quindi siete bloccati dal poter aggiornare il vostro sistema finché non mettete a posto questa situazione ok questo è diciamo il succo del problema al quale mi sono trovato davanti come risolverlo questo problema bisogna ripristinare queste chiavi localmente in modo che le chiavi archiviate sul vostro sistema sul vostro pc possano essere confrontate con quelle archiviate sui server e se combaciano vuol dire che state parlando a un server certificato già conosciuto al vostro sistema il perché sia successo ecco altra piccola parentesi non ne ho idea ecco può essere che si siano corrotti i file locali sul mio pc dove sono archiviate queste chiavi quindi essendo corrotti questi file chissà per quale motivo e non mia ipotesi può essere la motivazione corretta può essere la motivazione errata comunque è una motivazione ipotetica è questa essendo corrotti questi file il programma tipo questo synaptic o quello che gestisce gli aggiornamenti del sistema non è più è riuscito a leggere correttamente le informazioni delle firme e quindi gli risultano come firme non esistenti o non corrette ecco come fare dicevo lo scopo di questo video è visto che io l'ho risolto tutto sommato facilmente però ho dovuto cercare come fare ci sono diverse possibili strade da terminale con diversi comandi eccetera eccetera quella che ho trovato più pratica e quindi quella che ben volentieri condivido con voi è quella di utilizzare un comoda utility un comodo strumento per gestire gli archivi ppa che esiste da diversi anni e si chiama yppa lo vedete qui con la sua icona a sfondo blu azzurro yppa è un appunto un'utilità un programma che facilita il compito di gestione del nostro sistema operativo un'utilità che permette il suo scopo principale quello di gestire gli archivi aggiuntivi quelli non ufficiali ppa appunto però questo programma ha come vedremo fra un attimo anche un'opzione che permette di ripristinare queste chiavi in modo semplice con un click diciamo ecco ecco perché vi presento questa via per ripristinare una situazione critica tipo questa che ho replicato qua quindi adesso fermo un attimo la registrazione del video per rimettere a posto le cose poi ricominciare e mostrarvi come si fa a rimettere a posto questa questa anomalia delle chiavi tra un attimo ci risentiamo rieccoci qua pronti a proseguire con la seconda parte finale di questo video una cosa che non vi ho detto prima della pausa è come si installa e come si usa questa utilità y ppa per chi non la conosce ancora tempo fa avevo già registrato un video di cui parlavo in cui parlavo proprio di questa utilità e basta che vi recchiate sul mio canale a cercare questo titolo gestire comodamente i repository ppa per ubuntu con y ppa e lì in quel video trovate tutte le indicazioni del caso quindi ovviamente non sto in questo video nel presente video a ripetere quanto già detto in quello se vi interessa appunto installare anche voi questa utilità andate riferitivi a quel video in questo video diamo per acquisito che l'y ppa è già disponibile sul nostro sistema e abbiamo il problema di cui abbiamo parlato prima allora prima cosa da fare è siccome supponiamo che il problema stia nei file che hanno archiviato sul nostro sistema le chiavi di certificazione dei repository andiamo a vedere a rinominare questi file in modo che come dire per il sistema non esistano più ecco non li riconoscerà più perché gli abbiamo dato un nome diverso come facciamo siccome questi file sono archiviati in una parte del file system di sistema abbiamo bisogno dei diritti di amministratore di root per poter modificare questi file in quella cartella quindi apriamo un terminale come ho già fatto qui che è già aperto e avviamo in questo terminale una tempo una sessione di root quindi di amministratore con il comando sudo spazio meno s ecco ci chiede ovviamente la password per poter agire come amministratore adesso siamo in root vedete prima ero ho aperto il terminale come user normale è di utilizzatore normale quindi la mia nicola e adesso sono diventato root quindi amministratore quello che può far tutto da qui per praticità apro nautilus che è l'interfaccia grafica del file manager e ci richiamo nella cartella dove ci sono questi file quindi computer per andare in cima a tutte le cartelle poi etc cartella etc e apt successivamente apt e qui vedete che ci sono alcune cartelle alcuni file quelli che ci interessano sono tutti i file e le cartelle che iniziano con la parola trusted quindi trusted vuol dire certificato appunto che 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 ha la fiducia del nostro sistema ecco trust fiducia dell'inglese tutto ciò che si chiama trust che parche inizia con traste ecco che sia trasto traste do tras di b insomma tutto quello che inizia con tr ust noi lo rinominiamo perché sono proprio queste cartelle questi file che contengono le famose chiavi che adesso sono corrotte e non funzionano più sul nostro sistema quindi qui libertà completa basta che il nome sia diverso così facciamo sparire questi file dal sistema non li cancello per il momento per come dire per estrema prudenza ecco anche se sono corrotti o che so io meglio non cancellare i file originali per il momento se tutto funziona bene se riusciamo a ripristinare correttamente il nostro sistema questi file che abbiamo appena e cartelle che abbiamo appena rinominato con la is davanti possiamo effettivamente cancellarle al termine della procedura quindi lasciamo aperto questa finestra in sessione amministratore route con il nostro terminale naturalmente lasciamola lì e apriamo l'ipsilon ppa manager ecco la nostra preziosa utility che chiede anche lei ovviamente la paso perché lavora anche questo come amministratore per forza perché deve gestire dei repository questa è l'interfaccia di ppa e ci richiamo subito l'icona advanced ovvero le opzioni avanzate facciamo un click e si apre una finestrella in questa finestra ci sono varie operazioni avanzate sui sui repository che si possono fare e quella che ci interessa eccola qua try to import all missing gpg keys ecco quindi prova ad importare tutte le chiavi che ti mancano ed è proprio per quello è quello che ci serve serve al nostro scopo noi abbiamo per così dire nascosto al sistema le chiavi corrotte o meno che esistevano il sistema ha dei problemi quindi in questo momento è come se il sistema non avesse più nessuna chiave nessun file di chiave non lo riconosce più e con questa opzione noi li ricreiamo o tentiamo di ricrearli le chiavi che sono sparite o si sono corrotte nei file quindi scegliamo queste facciamo ok ecco l'utility y ppa ci dice che sta facendo quel lavoro lì di importare le chiavi che mancano e di attendere tranquillamente perché può impiegare un po di tempo questa cosa quindi facciamo ok adesso è partito a fare il suo lavoro e quindi qui bisogna solo aspettare non c'è un'evidenza nell'interfaccia che ci dica sta lavorando o no noi sappiamo che sta lavorando e dobbiamo solo aspettare che abbia finito quindi fermo per un attimo il video ecco qua ha finito e riapparsa la finestrella con le opzioni avanzate vedete qui la notifica done importing missing gpg key quello che poteva fare ha fatto ha finito il suo lavoro quindi y ppa manager con due clic ci ha molto probabilmente rimesso a posto ripristinato la situazione possiamo chiuderlo non ci serve più e vediamo che qui nella nostra cartella di sistema ci sono ancora i nostri x ovviamente come se non esistessero e è stato ricreato un nuovo trusted gpg fresco fresco che è quello che ha creato la nostra utility vediamo se questo se questo file ha rimesso a posto le cose praticamente allora apriamo di nuovo il nostro gestore di pacchetti ok sta leggendo di nuovo tutte le informazioni voilà e andiamo sotto impostazioni repository e vediamo se le chiavi sono state effettivamente recuperate dalla nostra utility y ppa aspettiamo che esca la finestra su come ho già detto ah voilà stavo per dire che la macchina virtuale ha i suoi problemi come sempre comunque allora andiamo sotto la scheda autenticazione e vediamo che un elenco di chiavi effettivamente presentato alla nostra vista butta bene la cosa è quindi ci sono le varie chiavi di ubuntu in quanto tale quindi di quelli ufficiali quelli qua e anche di quelli ppa degli archivi aggiuntivi che abbiamo aggiunto poi nel tempo al nostro sistema parrebbe tutto a posto quindi chiudiamo questa finestra e facciamo la prova del 9 a questo punto che che consiste in quella che abbiamo fatto proprio l'inizio del video vero a riaggiornare le informazioni quindi aggiorna aspettiamo che synaptic faccia il suo lavoro e vediamo se appaiono o non appaiono più gli errori delle chiavi di certificazione dei repository ancora un attimino un po ecco qua vediamo vediamo eh sembra molto meglio di prima la situazione vedete che rispetto all'inizio del video quando vi ho mostrato cosa consiste questo problema non è più apparso nessun avviso vedete perché quelle chiavi sono state ripristinate dalla nostra utility di y ppa manager e quindi siamo a posto abbiamo ripristinato la situazione sul nostro sistema a questo punto chiudiamo tutti felici il gestore dei pacchetti l'ultima cosa che possiamo fare fare pulizia anche se questi file ormai per il sistema non esistono più ovvero il sistema di gestione dei repository non esistono come se non esistessero più però per pulizia eh facciamo una bella pulizia possiamo togliere questi file perché effettivamente sono quelli diciamo così corrotti eh precedenti adesso abbiamo il nostro trust gpg con le chiavi ripristinate il sistema può ricominciare a funzionare come prima ecco con questo concluso sperando prima di tutto che a nessuno capiti mai questo problema perché è un'anomalia che come avete visto si può risolvere facilmente ma è pur sempre fastidiosa e di una parte fondamentale del nostro sistema che riguarda gli aggiornamenti anche e due sperando che se dovesse capitarvi avete adesso una testimonianza un modo la via che io ritengo più confortevole per risolvere una situazione di questo tipo con questo vi saluto ciao ciao e alla prossima